Salve a tutti cari amici del verde, oggi andiamo a vedere di fare tante piantine dai semi dell'oleandro, possiamo avere anche noi le nostre piantine di oleandro che ci fioreranno e ci daranno queste spettacolose fioriture resistenti per tutto il periodo di siccità dell'agosto, ad agosto l'unica pianta in fiore che resiste alle calde temperature è l'oleandro, andiamo subito a vedere come possiamo seminarlo. Eccoci qua, siamo ad agosto, il nostro leandro fiorirà per tutto il periodo estivo con queste splendide fioriture e metterà i nuovi boccioli, i fiori, i fiori impollineranno, daranno poi questi piccoli baccelli quando sono impollinati, i baccelli cresceranno, eccoli qua, e rimarranno così sulla pianta per tutto il periodo autunnale. Tutti i fiori che sono stati impollinati rimarranno appesi sulla pianta per tutto quanto l'inverno, poi quando sono chiaramente pronti a lasciare i loro semi, eccoli qua, si aprono e dentro avremo un sacco di semini, siamo pronti per andarle a raccogliere, eccoci qua, hanno passato il loro periodo di vernazione, siamo giunti verso febbraio marzo, e noi adesso li andiamo a seminare. Prepariamoci i vasetti, per la semina io mi sono avvantaggiata, è comunque normalissimo terriccio di quelli che ci si rinvasa. Prendiamo i semi, mettiamocene un bel po' all'inizio, perché la germinabilità, scusatemi, non è alta. Una volta che voi avete messo i vostri semini, basta semplicemente mettere un paio di centimetri del vostro terriccio sopra, a questo punto annaffiamo abbondantemente. Il passo successivo è andare ad inserire il nostro vasetto all'interno di queste buste, vanno bene anche queste del congelatore, con un bel laccetto sopra. Ed eccoci qua, è passato un mesetto e le nostre piantine di reandro stanno nascendo, vedete? Adesso rimettiamo il sacchetto, riponiamo di nuovo sempre al riparo, perché le temperature esterne ancora sono rigide. E qui le nostre piantine già hanno un paio di mesi, sono alte quei 3-4 centimetri, è ora di andarle a trapiantare, le metteremo in un vaso più grande. E qui la nostra piantina trapiantata ha già i suoi quattro mesi, guardate su che bella è alta, circa quei 15 centimetri. Vi saluto qui ragazzi, ci vediamo la prossima, un saluto a tutto da Pier Giorgio, ciao! Ciao!